Lanciare proposte a tutela della salute dei cittadini a difesa dell'ambiente sono questi gli obiettivi del Comitato Cittadini per Scafati guidato da Arcangelo Sicignano. Dopo la grande manifestazione per il disinquinamento del fiume Sarno sono tante le iniziative che il Comitato ha in cantiere. In primis sarà presentato alla Commissione straordinaria un progetto per il miglioramento della raccolta differenziata. Noi stiamo lavorando sulla raccolta dei rifiuti a Scafati che oggi penso sia uno dei problemi che maggiormente affligge i cittadini e abbiamo già incontrato l'amministratore unico Meriani al quale abbiamo fatto le varie proposte che sono uscite appunto da Facebook dai cittadini stessi. Quindi abbiamo parlato di telecamere, abbiamo parlato di buste con barcode, abbiamo parlato di cassonetti e in particolare di cassonetti interrati se possibili. Abbiamo proposto di fare due aree modello, cioè delle due aree, una al centro e una in periferia dove praticamente andare a sperimentare queste proposte che i cittadini hanno fatto e andare nella direzione di fare una raccolta differenziale che sia sempre quanto più alta possibile e dall'altro lato capire se riuscendo ad aumentare la differenziazione si riesce anche a fare un risparmio sulla tassa dei rifiuti per i cittadini. Abbiamo incontrato l'amministratore delegata, adesso stiamo preparando questo progetto preliminare e lo faremo, lo presenteremo sia all'Axe, quindi a Meriani, sia alla commissione, quindi stiamo preparando la richiesta del progetto. Riflettori puntati anche sulla villa comunale. È l'unico polmone verde che abbiamo. Ho lanciato sempre su Facebook un ASDAC salviamo la villa comunale dove ho chiesto di avere da parte delle persone e dei cittadini quanto più forte possibile perché stiamo preparando pure qua un progetto per far ritornare la villa quella di una volta, cioè un centro di vita, non solo un luogo fine a se stesso, vogliamo che ritornano le vasche, vogliamo che ritornano le oquette, vogliamo che ritornano quello che ha reso questa villa un punto di incontro per le famiglie, per i bambini. Infine non cala l'attenzione sull'inquinamento del fiume Sarno che attraversa la città di Scafate. Il comitato si impegna a coinvolgere l'attuale governo centrale. Il problema del fiume a Scafate è sentito ma non soltanto per la puzza, ma per la salute nostra e dei nostri figli. Sono comunque molto preoccupato, molto preoccupato perché penso che quest'estate sarà un'altra volta dura. Abbiamo incontrato la Commissione, avevamo fatto un paio di richieste di avere al Tribunale di Nocera un giudice dedicato. Adesso per il fiume vorremmo approfittare del cambio di governo. Chiederemo anche al nuovo governo, così come alla Regione, di intervenire perché così penso non si possa andare avanti.